Bene, prima di chiudere la nostra consueta rubrica dedicata ai saperi e ai sapori. Ci sono prodotti semplicemente buoni e altri che sono delle vere e proprie bontà. Queste ultime sono le vere eccellenze di un territorio che ha molto da raccontare. Di sicuro sono bontà quelle che produce latte busche, una moderna realtà produttiva che opera nel settore lattiero caseario dal 1954. L'azienda ha sede a busche in provincia di Belluno, zona ricca di pascoli, ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. La bontà che oggi vi vogliamo raccontare è yogurt bio latte busche. Lo yogurt intero biologico latte busche è un prodotto fresco caratterizzato da sapore intenso del latte biologico di montagna dei soci allevatori. È realizzato con latte nelle aree dolomitiche della provincia e proviene da agricoltura biologica. È senza conservanti né coloranti e con l'aggiunta esclusivamente di zuccheri della frutta. Lo yogurt bio latte busche si fa gustare in quattro gusti, bianco, ai frutti rossi, ai mirtilli e alla vaniglia. Inoltre la parte in cartoncino della confezione è composta solo da fibre riciclate. Latte busche, 100% latte italiano, locale, di casa tua.